di un loro principio avremmo portato l'Italia nella più dura recessione degli ultimi trent'anni, avremmo consegnato il Quirinale, la riforma costituzionale al partito che si allea con Casa Pound, avremmo distrutto la credibilità dell'Italia di fronte all'Europa. Sì, io ho cambiato idea e l'ho fatto in nome dell'Italia e l'ho fatto per salvare l'Italia dal Salvini e dal salvinismo, lo rivendico, non ne ho paura. Non è nella disponibilità di nessuno, né del Presidente del Consiglio, che peraltro non è un parlamentare, né di leader politici, peraltro non parlamentari, mettere in discussione che questa legislatura abbia il dovere istituzionale di garantire una maggioranza realmente antisovranista, realmente pro-europeista all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per cui per noi questa cosa non è in discussione e chi dipinge noi come quelli che vogliono staccare la spina si guardi allo specchio, perché noi non vogliamo staccare la corrente a nessuno, noi vogliamo attaccare le correnti. Noi abbiamo fatto un governo per salvare l'Italia dai sovranismi, ma non faremo un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, perché quello non è il nostro mondo, è un mondo diverso.